Sale l'attesa per domani sera alle 20.30 quando si giocherà il ritorno della lupa al Garilli nel match di recupero con il Salso Maggiore. Pare certo intanto che domenica prossima gli uomini di Biali disputeranno a Ponte Nure l'incontro con la Fidentina. Nel frattempo la società biancorossa si è mossa per ottenere la disponibilità di altri impianti che potrebbero tornare utili nel caso di nuove partite a rischio, come è successo nell'ultima settimana per motivi legati alla sicurezza. Ponte dell'Olio rappresenta in caso di necessità un'alternativa plausibile grazie alla disponibilità della Pontogliese. Oggi alla vigilia del match contro Salso ha parlato Mister Biali. Abbiamo questo scontro con il Salso Maggiore che avevamo preparato qualche settimana fa, poi non si è giocato, quindi lo recuperiamo domani sera. Rispetto alla preparazione di quella partita che dovevamo fare ci sarà Bertolini che invece era squalificato in quella che dovevamo incontrare prima, quindi cambia qualcosa nel senso che il giocatore è loro più di qualità, però per il resto noi siamo pronti e quindi pronti a dare il massimo come tutte le partite. A causa di vari rinvii per mal tempo vi aspetta un po' un tour de force di gare ravvicinate? Sì, dico onestamente preferisco giocare spesso che giocare poco come abbiamo fatto negli ultimi due mesi, quindi non mi preoccupo, ho una rosa ampia, tutti i giocatori pronti ad avere i 90 minuti nelle gambe, quindi sono molto fiducioso. La difficoltà di avere il campo per le trasferte, domenica si parla di Ponte Nura, adesso anche Ponte Nura ha dato la disponibilità, però è sempre un po' un punto di domanda, disorienta la squadra, magari i tifosi? Soprattutto i tifosi, anche perché non sanno mai nulla fino all'ultimo momento. Noi, sai, giocando fuori casa è abbastanza relativo, è normale che il disagio che si è creato l'ultima volta, che nelle ultime 48 ore abbiamo cambiato tre volte la sede della partita, non ha aiutato, però sembra che adesso la cosa si sia un po' calmata, si sta organizzando tutte le trasferte, quindi credo che da ora in poi ci siano meno problemi.